Testa a coda al Morgavi di San Pier d'Arena, prima contro penulti, ma l'Olimpia vuole portare via a qualche punto dal campo di casa della Capolista. Per restare in corsa per la lotta a salvezza, il Murangeli è chiamato alla vittoria per tenere a distanza il San Desiderio nel girone D di seconda categoria. Fischia all'inizio il signor Marchesotti, vogliamo subito al quinto minuto quando la prodezza di Annibaldi nega il gol a San Paoli. Ci spostiamo di 100 metri dove il collega Massone si fa trovare pronto sullo schiaffo dal limite dell'area di Parodi. Al dodicesimo minuto Milone cade in area, Marchesotti lascia proseguire e riguardando il replay ha decisamente ragione. Pochi minuti più tardi si scatena Cepollina che ci prova in due occasioni, prima a tu per tu con Annibaldi, poi dalla distanza senza però trovare la rete. Un altro episodio da Moviola al venticinquesimo quando Bossini sembra allargare eccessivamente il gomito su Riso Ramires. Questa volta dal replay rimane qualche dubbio. Murangeli che ha subito l'occasione per spegnere le polemiche, ma Rota da pochi passi si divora il gol dell'1-0. Si passa al secondo tempo che inizia nel segno dell'Olimpia che per l'appunto va a segno con la zampata di Donato servito sul filo del fuorigioco da Parodi. Fuori inquadratura il numero 3 del Mura Milone che sembrerebbe tenere in gioco il numero 9 Biancoazzurro. L'Olimpia si difende eroicamente per quasi mezz'ora sotto i colpi del Mura Angeli, ma al 37esimo minuto sul cross dalla destra Annibaldi è impreciso nell'uscita e Bombert Assistro è entrato da pochi minuti, ci mette il puntone siglando il gol dell'1-1. È una rete di vitale importanza per la capolista che rialza la testa e prova a vincere la partita due minuti più tardi. Reclama il calcio di rigore per un tocco di mano pochi centimetri dentro l'area di rigore che con l'aiuto della Moviola sembra in effetti essere evidente. Ma non c'è nemmeno il tempo di protestare perché a far esplodere di gioia i padroni di casa ancora Matteo Assistro in versione Super Saiyan che raccoglie di prima la sfera dopo un disimpegno impreciso e la infila all'angolino. Corsa sfrenata a centrocampo, maglietta lanciata via e cartellino giallo veramente ben speso. Termina così una partita thriller in cui la proletaria Olimpia ha messo in difficoltà una prima donna come il Mura Angeli, ma alla fine Davide non batte golia perché il gigante del campionato si conferma il Mura Angeli sempre più in testa alla classifica.